Saluti ragazzi e ben ritrovati dal vostro Little Dumpy Estendo che in questi giorni purtroppo non ho la rete internet Giochiamo al giochino del dinosauro insieme Come avete potuto vedere il mio record è di 2858 Ho già perso E in questa challenge possiamo dire Dovrò arrivare a 10.000 C'è dato la 9.000 E se arriva a 1.000 il video finisce Vediamo un po' se ci riusciamo Tanto fa un casino dalla madonna Non pensavo che ci sia tanto casino Quindi LOL E vabbè Dovrò arrivare a 1.000 Magari potrei anche abbassare un po' Ma purtroppo non posso più Quindi LOL Ok passiamo il 300 Avevo in mente un paio di video da caricare Ma purtroppo non posso montarli per l'assenza di internet Quindi LOL Intanto facciamo questo giochino qua un pochettino Ed accatta C'è un Anata Che c'è insieme Inizia più lentamente Anata Anata Ragazzi questo giochino è stato uno dei miei preferiti quando ero piccolo Cioè io Ah è così per cambiare anche atmosfera Io lo mettevo apposta Toglievo internet apposta per giocare a sto gioco Anche il suo cellulare Che poi hanno fatto la roba che Potevi giocarci anche Se avevi internet Anche l'applicazione Porca miseria Ok raga Ok Bello No Non mi metti idea Facciamo fino a dove riesco a arrivare E li faccio bello E meno il video che diventa un pochettino più lungo Ok Bello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti